Ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube non ci posso credere sto registrando un video e lo so che sono latitante da tantissimo tempo che vi avevo promesso un tutorial purtroppo non sono riuscita a girarlo in tempo ma ho deciso di girare questo video al volo proprio perché ho un po' di tempo e perché mi è arrivato appunto questo pacco enorme dalla Spagna mi è arrivato questo pacco fantastico io non ci potevo credere quando l'ho visto perché vi faccio vedere praticamente misura 60 cm 60 cm di lunghezza per 22-23 cm di larghezza è un pacco che mi è stato spedito da una mia amica una persona speciale che io non finirò mai di ringraziare Nieves un beso molto grande è una persona fantastica Nieves come sempre ha un cuore enorme questa volta è veramente ha superato tutti i pacchi che mi ha mandato finora veramente io sono senza parole ogni volta mi lascia con il fiato sospeso sapevo appunto che mi doveva arrivare questo pacco perché mi aveva gentilmente avvertito e niente io sono curiosissima ragazzi sono veramente troppo troppo curiosa e quindi lo andrò proprio ad aprire insieme a voi sperando appunto di farvi cosa gradita visto che non mi faccio vedere ormai da tantissimo tempo sul canale e lo faccio soprattutto anche per ringraziare di cuore Nieves per tutto quello che fa per me ovviamente vi lascio il link della pagina di Nieves perché realizza delle cose fantastiche quindi se vi va poi cliccate sul link qui sotto e appunto mettete un like alla pagina di Nieves allora io inizio ad aprire piano piano sarà un po' difficile però ce la metterò tutta allora sto cercando di aprire il pacco e nel frattempo sono riuscita ad aprire questo perché è veramente molto difficile è imballato perfettamente quindi inizio ad aprire questa che è una bustina che era sovrapposta praticamente al pacchetto ecco qui e dovrebbe esserci il biglietto sì penso proprio di sì ve lo faccio vedere anche se il contenuto ovviamente lo terrò per me è bellissimo mamma mia stupendo Nieves come sempre è bravissima e si supera ogni volta meraviglioso quindi questo è il biglietto adesso lo vado a leggere guardate che bella la busta stupenda e adesso lo vado a leggere ci vediamo fra poco ho appena finito di leggere la lettera di Nieves e le dico soltanto una parola e le dico tu carta e poi ti voglio contattare a Blamos e ti invio un beso molto grande e un abbraccio molto 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 grande di mia parte quindi ovviamente poi le dirò in privato quello che penso su quello che mi ha scritto nel biglietto e vorrei proseguire ad aprire questo pacco enorme che è veramente enorme mi ha scritto nel biglietto un'album 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 volevo farvi vedere man mano tutto quello che usciva dal pacco ma è stata veramente un'impresa aprirlo però voglio mostrarvi innanzitutto appunto le cose che ho tirato fuori perché era tutto imballato perfettamente e appunto ci sono queste decorazioni a mezze perle che io uso tantissimo e mi piacciono moltissimo sono bellissime e poi questa che sapevo che neves appunto me l'avrebbe spedita e sono veramente molto 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 felice di ricevere ed è il contenitore in cui è una specie di appunto di diario contenitore con le scatoline per inserire all'interno le perline e appunto si estraggono le varie file e dovrebbe appunto aprirsi non mi ricordo non so come così in pratica c'è la chiusura di sicurezza in questo modo non si possono non si aprono vedete dovete premere e tirare su è fantastico questo questo raccoglitore per perline è veramente strepitoso guardate qui è stupendo mi piace tantissimo non so io non finirò mai di ringraziare la nieves è davvero qualcosa di spettacolare e di meraviglioso questo appunto è il raccoglitore dall'alto ma voglio mostrarvi qualcosa di ancor più spettacolare che è stato realizzato da nieves e che appunto non ci potevo credere guardate qui che spettacolo vorrei farvelo vedere per intero vediamo se ci riesco è un album meraviglioso ragazzi meraviglioso è stato realizzato da nieves e appunto qui c'è una decorazione con questo albero molto molto bella mi piace tantissimo e è fantastico sembra veramente di quelli acquistati io non ho parole all'interno è fatto in questo modo forse se appunto se lo tengo giù si vede meglio qui c'è questo notebook diciamo nella tasca decorato tutto interamente a mano da nieves con questa appunto tag stupendo mamma mia io non ho parole è meraviglioso veramente fantastico qui si possono ovviamente mettere delle foto e questo è un notebook un quadernino sul quale appunto si possono scrivere delle cose oppure si possono non so magari mettere appunto alcune foto anche lì guardate questo mamma mia è è stupendo anche le carte che ha utilizzato nieves sono veramente fantastiche poi c'è quest'altra pagina qui questo vediamo cos'è stupendo è un album scrapbooking meraviglioso io non ho parole ragazzi è veramente spettacolare ovviamente realizzato anche con i miei colori preferiti qui a qui si apre in questo modo c'è la bustina e si tira fuori la tag con appunto c'è questo fiore sul retro stupendo mi appunto mi scuseranno tutte le persone che fanno scrapbooking ma non so i termini tecnici so solo che quest'album è di una bellezza inaudita it's so good to be home stupendo veramente senza parole ragazzi guardate la precisione poi di questo di questo album la precisione tutto decorato poi c'è questo con questo pizzo nero e questo lo conserviamo qui con queste carte che sono veramente bellissime anch'esse quest'altra tag con quest'altra carta a tema sugli stessi colori tutto vintage che meraviglia ragazzi ora sto allibita penso che nieves ha delle mani d'oro e tutto quello che fa ne riesce divinamente veramente non non posso dire altro soltanto soltanto questo è uno spettacolo questo album veramente uno spettacolo lo custodirò gelosamente questo vediamo cos'è questo è una piccola tag qui ci sono dovrebbero esserci delle fessure se non mi sbaglio queste sono altri piccoli altre piccole bustine con appunto queste tag all'interno stupende anche questa bellissimo tutto vintage sul blu anche questa qui le decorazioni anche le decorazioni sono stupende credo siano state fatte con la big shot nieves correggimi se sbaglio meraviglia delle meraviglie è un album che non ha nulla da invidiare agli album agli album che si vendono anzi secondo me è ancora più bello questo con la carta appunto con il pentagramma stupenda anche questa carta qui questo deve essere un foglio decorato con questo effetto antico stupendo che io adoro ma che questa carta stupenda con questo mandala meravigliosa home is when we are together anche qui ci sono che qui c'è questo bigliettino never give up dream big questo è un motivazionale direi quante volte ho detto stupendo io non so che altro dire non io non riuscirei mai a fare un album di questo tipo con la sua precisione la sua dedizione perché è una donna veramente fantastica tantissime risorse è di una generosità disarmante lo state vedendo appunto e anche questi sono bellissimi questo è un altro notebook stupendo anche questa carta qui meravigliosa decorato con today is a really good day e questa chiave che spettacolo ragazzi io sono senza parole sono senza parole veramente e questo appunto è l'album chiuso con un fiocco bellissimo fiocchetto adesso vado a chiudere così è di una bellezza inaudita qui non so se si riesce a vedere e similpelle blu è decorato appunto sul blu e loro ed è fantastico qui metterò metterò penso che metterò le foto appunto le mie foto più belle non so se appunto lo incollerò poi le foto magari le mie foto più a quelle a cui tengo di più ecco è strepitoso insomma ho ripetuto sempre le stesse parole poi è uscita questa bustina con mafi che è bellissimo questa fettina di legno con mafi sopra in realtà stavo pensando anch'io di creare delle targhette non in legno ma in acciaio magari con il mio logo e questa è veramente tenera è troppo troppo bella e poi mi ha inviato un'enormità un'infinità di scatoline per chi avesse visto appunto il video il vecchio video in cui neves mi inviava di queste confezioni di scatoline le avevo chiesto visto che mi erano piaciute molto le avevo chiesto dove le avesse prese non l'avessi mai fatto perché questo è stato il risultato mi ha inviato appunto altre scatole di altre dimensioni e sono appunto più grandi sono delle scatole veramente bellissime molto molto belle e sono uno due tre come vedete appunto queste sono più piccole quattro si vede il mio riflesso è meglio di no cinque e sei scatoli cioè sei confezioni di scatoli dovrebbero essere dieci all'interno dieci pezzi sì ecco qui dieci pezzi per ogni scatola seta nero sono bellissime e sono fantastiche tra l'altro dovrebbero essere anche italiane io non so perché qui non le ho mai viste non le ho mai trovate da nessuna parte però adesso ne avrò per un bel po' di tempo posso anche confezionare le collane perché queste sono un po' più grandi di quelle che avevo già che mi sono terminate perché sono state veramente preziosissime quindi grazie infinitamente nieves grazie 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 e oltre a tutto questo perché non bastava ovviamente oltre all'album oltre al contenitore cioè che già di suo era più che abbastanza diciamo c'è anche questo piccolo pacchettino che ho lasciato per ultimo perché volevo aprirlo con voi e vedere appunto cosa ci fosse all'interno ovviamente pietre pietre oddio mamma mia queste sono meravigliose guardate qui che spettacolo si vedono sì sono stupende non so perché ma in spagna si trovano delle cose fantastiche questa è una carta bianca penso sono bellissime questa meravigliosa anche questa ce ne sono tantissime mamma mia ragazzi che spettacolo con queste farò appunto collezioni da uomo bracciali da uomo la sua carta immancabile che è stupenda ecco qui ho tozzo tutto queste sono stupende guardate qui meravigliose poi wow che belli questi sono dei connettori si trovano delle cose particolarissime alla corugna dove vive nieves sono bellissimi saranno tipo in resina penso vediamo un po' sì molto molto carini per dei braccialetti appunto questo che è carino molto come dire io questi li vedo bene con delle pietre e con dei cordini magari colorati anche sia neri che colorati con delle pietre ma mi stanno già venendo delle idee bellissime anche questi questo forse non so se è pirite perché non mi sembrano mezzi cristalli e anzi questo dovrebbe essere pirite o ai matite stupenda mamma mia è glaciale proprio freddissima meraviglia poi c'è ultra a b mind no non mi dire wow no ragazzi io posso morire sono svenuta ma che colore è è strepitoso no vabbè ciao ne proprio come si suol dire allora vediamo qui non lo voglio rovinare Lia stai ferma non fare danni quindi questo è ultra a b mind e già già sono morta con quello praticamente per fortuna che alcune parti di questo video le velocizzerò perché altrimenti non finiamo nemmeno per il natale del 2024 neves è una collezionista swarovski e mi ha mandato dei colori strepitosi oh mamma elektra no vabbè ma questo è un colore fantastico sono dei cabochon stupendi che meraviglia ragazzi voglio morire vabbè mi sa che è meglio che li metto nelle bustine perché così almeno si preservano dal e così li posso anche vedere oddio sono stupendi vabbè io non farò male già qui vedo altro cos'è questo questo è il colore chrome chrome vediamo vediamo mamma mia ma sono bellissimi questa è una goccia di questo colore bellissimo strepitoso vabbè e poi vediamo qui neves eres fantastica io non so che desidero es una cosa incredibile lo piace sperami io no voglio capare non che mi vede a agradecerte per tutto lo piace eres increíble sos eres increíble i tulip beading needles tulip una confezione di tulip io l'ho comprati una sola volta non li più usati perché erano molto cari dico la verità questi sono degli aghi fantastici veramente sono veramente strepitosi quindi grazie e muchos muchos muchas muchas gracias nieves meraviglia wow wow scotch dappertutto ma non mi interessa sono bellissimi che colori ragazzi che colori strepitosi stupendi e questi sono tre paccozzi delle mie perline preferite che lei sa che io utilizzo tantissimo e sono le pf 557 della to stupendi mamma mia io non ho parole sono le 15 0 le 8 0 e le 11 0 ovviamente eccole qui nieves io non tengo parole se no sei che desir solo tengo los ojos abiertos e sto admirando todos los che mi asembiato e qui ci sono altre bustine vediamo altri livoli oddio questi sono vabbè i paradise shine questi sono stupendi dovrebbero essere non voglio equivocarme come si dice al spagnolo stupendi poi vediamo questi questi sono questi sono i ultra b dovrebbero essere i burgundy burgundy delight della della swarovski dovrebbero essere stupendi strepitosi questo è un colore fantastico anche questi tutte le tonalità ovviamente con il blu perché sa che io adoro questi colori sono super meravigliosi che vi devo dire ragazzi io sono allibita oh chaton 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 piccoli chaton questo è sapphire o è majestic no è majestic blue ah sì c'è anche scritto ciao lia buongiorno sono quattro chaton del colore majestic blue sono veramente abbagliata che non ci capisco più niente ragazzi e questo questo è strepitoso questo non c'è scritto il colore mamma mia ma che spettacolo io farò un video appositamente per tutti questi colori svaroschi che sono secondo me meritano sono veramente fantastici magari lo faccio sulla mia pagina Natalia Svastano designer per chi non ci fosse oppure l'altra pagina dove posto i tutorial e le foto da tutto il mondo ci sono ancora questi che non ho ancora spacchettato ovviamente c'erano le dorate non potevano inviarmi le argentate perché poi Nieves mi ha mandato un'infinità di perline che io non so quando le finirò di utilizzare Nieves queste sono sempre le To perché utilizzo le To lei mi conosce molto bene sono le 11.0 le 8.0 e le 15.0 ovviamente e qui vediamo cosa c'è dovrebbe essere l'ultimo pacchettino sì spero di non aver dimenticato niente e questo è ovviamente nero sono i tre colori fondamentali che non possono mancare nella diciamo nello starter kit della perlinatrice assolutamente nero argento e oro sono i colori master diciamo della 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 berlinatrice ragazzi io cosa vi devo dire io sono veramente sono grata sono grata per sono estremamente grata per per voi per Nieves perché è una persona meravigliosa non smetterò mai di dirlo io tesso le lodi di questa donna fantastica forte generosa meravigliosa e non smetterò mai di ringraziarla perché ha fatto tantissimo e continua a fare tanto per me e quindi nulla io la ringrazio veramente di cuore questo video era un piccolo diciamo un ringraziamento da parte mia per per tutto questo non non posso che augurarle solo felicità solo felicità e serenità ed è questo quello che vorrei augurarle appunto dal profondo del mio cuore io vi ringrazio tantissimo per aver seguito con me appunto l'apertura di questo pacco infinito dalla spagna e grazie ancora appunto per per esserci sempre vi ringrazio perché anche se non sto facendo più tutorial continuate a seguirmi sul canale ad iscrivervi al canale a tal proposito voglio scusarmi se non ho girato appunto il tutorial della della scatolina però fatemi sapere comunque se vi va che lo giri anche se san valentino ormai è passato e quindi non farei in tempo se vi va io lo giro comunque magari la decorazione poi sopra può essere diversa fatemi sapere mi raccomando con i commenti qui sotto al video vi ringrazio tantissimo e nulla vi mando un abbraccio grandissimo e un abbraccio speciale a nieves muchas gracias nieves un beso muy grande ci vediamo presto ciao ragazzi